In Brammer sappiamo bene che non puoi permetterti di sopportare nessun costo che non sia necessario tuttavia devi bilanciare l'obiettivo di realizzare riduzione di costi con quello di mantenere il tuo impianto in funzione. Perché ciò sia possibile i tuoi team devono avere i prodotti di cui hanno bisogno e solo quelli quando e dove ne hanno bisogno. Che ne pensi se ti dico che Brammer ha un servizio che ti permette di fare esattamente tutto questo e di ridurre i costi per la tua azienda e lo stock del tuo magazzino. Si chiama Brammer Invent. È semplice, è conveniente e ti aiuta in tre modi diversi. Riduce il consumo dei prodotti, riduce le scorte di magazzino pur aumentando al tempo stesso la disponibilità dei prodotti e migliora la tua produttività. Come? Ti sembra forse di aver già sentito questa storia. La tua linea operativa è produttiva, il tuo team è impegnato, poi qualcosa si rompe e bisogna ripararlo immediatamente. Spesso tutto ciò si traduce in una lunga camminata verso un magazzino centrale, il che va anche bene se si tratta di un pezzo importante prelevato solo ogni tanto. E se invece si tratta di qualcosa di cui il tuo team ha bisogno e usa tutti i giorni, come ad esempio le batterie, o di qualcosa di cui si ha bisogno per proteggere salute e sicurezza, come ad esempio guanti nuovi o occhiali di sicurezza. Andare in magazzino per questo tipo di articoli si traduce in una grande perdita di produttività. E se poi nessuno monitora quanti pezzi vengono prelevati o se gli operatori si tengono da parte delle scorte individuali? Si tratta di un vero problema, particolarmente per quei prodotti di consumo utilizzati spesso e difficili da tracciare. In che modo Inventi aiuta a risolvere questi problemi? Se inserisci questi prodotti nella nostra macchina Invent e poi la posizioni proprio dove lavorano gli operatori, elimini questi problemi. Fine della discussione. Anzi, i nostri clienti riferiscono che Invent li aiuta a ridurre il consumo di questi articoli dal 25 al 40%. Niente più visite in magazzino e attese per il riassortimento di materiali che l'operatore richiede ma di cui non ha bisogno. I tuoi dipendenti ottengono precisamente quello di cui hanno bisogno in pochi secondi e poi tornano al lavoro. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. E poi Invent ti offre una visibilità completa su chi richiede quali prodotti, quanti e quando, poiché ogni transazione è tracciata. In questo modo puoi stare sicuro che i prodotti di consumo non esauriscono tutto il tuo budget, ma questo non è l'unico modo in cui ti permette di risparmiare sui costi di magazzino. Infatti elimina la necessità di mantenere i materiali in stock. Proprio così, l'assortimento all'interno della macchina non ti costa un centesimo e il prodotto ti verrà fatturato solo quando viene erogato all'operatore. E poi c'è il rifornimento. Tutti noi sappiamo che non c'è niente di più spiacevole di quando il distributore automatico ha finito il caffè perché l'operatore non è ancora passato a rifornirlo. Con Invent non devi preoccuparti di niente del genere. Quando la porta si sta abbassando, riceviamo un'allerta automatizzata. Ed è qui che il team Brammer, che sta dietro le quinte della macchina, entra in azione. Noi di Brammer distribuiamo oltre 5 milioni di prodotti delle marche numero uno al mondo. Abbiamo oltre 500.000 prodotti in assortimento pronti per la consegna. Inoltre gestiamo 16 centri nazionali di distribuzione all'avanguardia che servono 22 paesi in tutta Europa. Si tratta di un bel po' di assortimento e di un sacco di esperienza. Ecco perché quando riceviamo l'allerta automatizzata veniamo da te e riforniamo la macchina. Con Invent non c'è bisogno di ordini d'acquisto, niente tutto esaurito, niente stock in eccesso e nessun costo di mano d'opera. E ricorda che non paghi nulla fino a quando l'articolo non viene effettivamente prelevato. Anche l'installazione è semplice. In Brammer sappiamo che non tutti i clienti hanno le stesse esigenze. Usiamo la nostra esperienza per identificare il giusto tipo e numero di macchine e la loro collocazione ideale per il tuo specifico impianto. Ti aiuteremo a scegliere con precisioni quale linee di prodotto inserire e quali dovrebbero essere i livelli di scorta. E tutti i prodotti che puoi selezionare per la macchina sono testati per funzionare correttamente con le macchine che forniamo. Ricapitoliamo. Riduce i consumi, riduce il tuo inventario e migliora la tua produttività. Ma non ti chiediamo di crederci sulla fiducia quando si tratta della differenza che Brammer Invent può fare. Ascolta quello che hanno da dire alcuni dei nostri clienti. L'avantaggio principale delle macchine Invent per la sicurità, che è l'obiettivo numero uno per il Smurfit Kappa, è di essere sicuro di avere il buon prodotto disponibile tutto il tempo, in tutte le macchine, nel mondo tutto. La nostra grande ragione per Invent è stata sicuramente sapere che 7 giorni per 24 ore per giorno, le prodotti che avevano bisogno. Una delle funzioni di Invent è, dentro del controllo dei materiali, è che questo consumo sia racionale. Quindi, in qualche modo, speriamo di avere alcuni risultati. Abbiamo potuto controllare chi usa il prodotto. Abbiamo più visibilità, abbiamo quello che vogliamo quando vogliamo. Abbiamo bisogno di fare la ricordazione, Brammer lo fa per noi. Abbiamo bisogno di fare anche il criterio di passare per il servizio, chiedere, 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 chiedere la macchina, chiedere la macchina, chiedere il tipo di EPI che già conoscevano per la tipologia del posto, e, se non, si non, si chiedere, chiedere, chiedere l'EPI, chiedere, 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 non preoccupare di più. L'avantaggio del servizio Brammer per la recuperazione delle informazioni è che ci sono sicuri che le informazioni sono buoni. C'è una trasparenza totalizzazione della consumazione. Quando ho legato il white paper sullo industriale vendere, ha fatto accelere di cose come 40% e 50% di servizio sui consumibili, e io ero sceptico su tutto. Infatti, ci sono circa 60%. In Brammer Invene, penso che se qualcuno pensa a mettere delle macchine Invene Brammer, io gli direi che bisognava andare. Per persone che dovrebbero pensare, come inventare, vorrei dire, dovete. Abbiamo migliorare informazioni, abbiamo migliorare visibilità, e tutto questo a un costo che è significativamente lower che ci fosse. C'è una buona decisione. Hi, so you've heard from our customers, and you've heard from us. As CEO of Brammer, in conclusion, let me briefly add this. I'm absolutely convinced that Invene will give you substantial cost savings and at the same time increase your productivity meeting the requirements of everyone responsible for keeping your production line running. From health and safety, to maintenance, from procurement, to production. And it's all so simple. All you have to do is to talk to our team now and okay it today. Then we'll start to prove the power of Invene to your organisation. Once you've tried it, you'll wonder how you ever manage without it. Thank you very much indeed. Thank you very much.